23-24 marzo giornate FAI di primavera presentate in sala giunta nel municipio di Feltre e visto che la mission del FAI è curare il patrimonio raccontandolo, il primo racconto è che finalmente il municipio è senza ragù. Saranno 750 i luoghi visitabili in 400 città per la provincia di Belluno e 2024 vede interessate Feltre e Dagordo. Abbiamo scelto Feltre e Dagordo, a Feltre è un ritorno perché c'eravamo già stati nella prima edizione delle giornate FAI di primavera 12 anni fa e a Agordo anche si tratta di una riapertura di Villa Crotta dei Manzoni che era stato un grande successo tanto che molte persone non avevano potuto entrare. Verranno in queste giornate FAI di primavera aperti luoghi, beh San Vittore è aperto già però viene valorizzato adesso questa visita e anche il casello di Cellarda di cui siamo felicissimi perché appunto rientra in una frazione e quindi nell'ottica di valorizzare anche tutti quei siti, quei tanti siti che abbiamo nelle frazioni che quindi attraverso questo gruppo potranno essere aperti, valorizzati, conosciuti. Il santuario dei Santi Vittore e Corona è sempre visitabile ma ne saranno aperti spazi normalmente chiusi, diverso il caso di Villa Crotta dei Manzoni che è privata e diverso ancora il caso della Chiesa di San Benedetto che è aperta per la celebrazione della Messa due volte al mese, mentre il recuperato casello di Cellarda è un po' il luogo di incontro della piccola comunità che lo ospita.